E cominciamo... Ehm, mi piacere, è tutto bene? Come si piacerebbe? Vissi sapere di ogni tanto. Avevo spettare la mia grande parte di tempo là, ma... non è possibile più di conto del incidente. Cosa succede? Beh, non è troppo sicuro che il tuo padre mi piacere a parlare, e conto di tutto ciò che scegliere e scegliere e scegliere. Cosa? Non mi giudisci! Sei la persona che veniva in tutto rinforzato. Si rinforza i ricordi di un uomo. Andiamo ora! Ho cose che non si potrebbero scegliere. Un po' giù. Eppure questo. Reimposto al visuale quando attacchi. Sposta automaticamente lo visuale dietro a Kratos quando colpisce il nemico sinistro a destra. Ah, ok. Non so. Forse... Forse... Namo! Allora, devo tornare alla... Montagna. Eh, il lucertolino. Eh, il lucertolino. Eh, il lucertolino. Bravo! Cosa è questo? Cosa è questo? Minchia! Cosa è questo? Oh... Cosa è questo? No, no, no! Cosa. Vi hanno potenziati! No! 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 Beh, veloce. Prigionano il focus, ma... Dov'è che avevo visto altri di questi? Di là ancora non posso fare niente. Troppo distante. Di qua non c'è altro. E non ce n'è altri di questi da accendere? Vediamo un po'. Io ne avevo visti altri. No. No. Forse erano dentro là? Ah, aspetta un attimo. Marmocchio? Oh, vieni o no? Eh, c'è altra roba. Forse non devo andarci adesso. Argento. Sì, non ci dovevo andare adesso. Vabbè, andiamo. Alla montagna! Alla montagna! Alla montagna! E' un attimo. Non brazzers, brazzers! Eh, cattivoni. Questo l'ho preso! Andiamo! Ho detto, dovremmo tornare con il cipher. E' una stragaccia! Minchia! E' un po' presto! Merda, è già finito! Eh, no, vabbè. Troppo presto. Che cazzo però! No, mi puoi mettere i livelli 7 qua, Cristo Santo! E' normale che muoio. Allora, quasi quasi lo attivo perché sennò mi dimentico. Boh, e non faccio niente. Che strozzo. Sono un povero livello 3, Cristo Santo. E anche questo vuoi leggere. Ah, quella lì sì! Sì, ci andremo. E questa no. No, perché questa no? Ho detto, dovremmo tornare con il cipher. va bene, capo. Oh, guarda! Guarda! La magia del cipher. La magia del cipher. La magia del cipher. Si, si. Meglio così. Aha! E' vero! Allora, lì sopra per tornare indietro è ok. Perché c'è un... Ah, giusto. Perché c'è il posto lì. Così puoi leggere questo. È un po' forzata, eh, sta roba, però. Ok, adesso va nel giornale. Ok, adesso va nel giornale. Vabbè, era dell'argento, vabbè. Completismo. Completiamolos. E di qua. E di qua. Io dubito che quella luce la sconfiggiamo con... Però... Allora, e sono di qua? Ehm, Giorgio, non so... Ehm... 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 Attivare con R3. Oh, si può. Ehm... Ehm... Vendi... Questi. Poi vendi... No. Vendi una polena. Tre bottini di guerra. Questi non li venderei. Questa non la vendo. A proposito. A proposito. Ce l'ho già. Ok. Ciao, Tony. Ciao, Tony. Allora, quello là l'ho già... Qua dovrei aver preso tutto, in teoria. Pronti, lo facci? It is over. Cos'è? Non calpestare le sostanze velenosi e puzzolenti che volo. Ah, non ce l'ho mai fatto caso. Qua c'è vita. Allora, qua avevo preso tutto. Qua avevo preso tutto e non c'è altro. Poi. Potrei usare la scorciatoia quella lì. Ma... No, no, mi va di arrampicarmi perché forse... Ho lasciato indietro della roba. Roba cristallosa, se non ho sbaglio. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Tipo quello là. Dai, marmocchio. Dov'è? Vuoi venire qua? No, eh. Allora sei stronzo. No. Allora, questo lo vuol dire Sì, sì, lascia stare No, chissà che cazzo è Guarda, qua ce n'è un altro Qua ci sono sti cosi che non so come si aprono C'era solo la cosa di Odino qua La minzica di Odino Ok Ah, questo non l'avevo preso Vabbè, un po' di argento Questa è vita? Sì Questa sì che è vita Questo era già partito come dialogo Allora, qua ho fatto i disastri con i troll Quello là ho già preso tutto Ah, ah Fa sempre bene tornare Sui propri passi ogni tanto E vediamo un po' Abbiamo preso la luce È impossibile che Ci sia un modo Permanente Forse dopo togliamo la causa Ah, ah C'era cosa No, non c'è niente Io vorrei sapere cos'è quel tondo là Dove c'è casa? Probabilmente sì Vabbè, allora E di lì Non c'è niente per far esplodere Lì c'è un Piastroccio di qualcosa Eh ma lì ce n'è ancora di alito nera Occio Minchia Che sanguisuga Mi chissà Disappei? È Sì unacceptable Noone 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 Non Di Eh, qua c'è ancora la bestialità... e mo? C'è l'occhio, l'abbiamo! Più c'è l'accento! Più c'è l'accento! Più c'è l'accento! C'è l'accento! C'è l'accento! Non sembra roba da giganti, però... What? Ah, tesorino! Un catalizzatore che puoi usare per migliorare l'amuleto delle tempeste eterne. Il costo della rabbia... Eh! Ah! Grazie! Eh, un attimo! Eh! Bravo! Bravo! Mai avere fretta figliuolo! No! Sì, lo so! Guardavo! Qua c'è questo che si apre spappolando qualcosa là, che ancora non so come si fa, quindi... Torniamo indietro. Intanto ho preso la mappa del tesoro. A proposito... Cazzo, ho un botto di XP, altro che... Aumento il numero di permagello. Ok... Ok... Eh... I punti deboli... A questo ci potrebbe stare... No, ho sbagliato. Allora, quando siamo nei nude... Questo sì. Sì... Premi le due... Dove... Eh... Tanta roba... Anche questo... Hai proiettili, giusto? Eh... Prima questo, cos'è? Cambia posizione fermandoti un attimo dopo un attacco. Puoi premere uno? Ok... Eh... Stai fermo? Eh... No, aspettiamo... Questo cos'è? Ah, la furia di Sparta... No, aspetta... C'erano pure... Ah, questi li ho fatti tutti. Eh... Re due persone... Ok... Questo? Cazzo! Questo è il suo... Consequente... Mmm... Vabbè... Questo per forza... Perché ci sta tutto... Questo non lo so, a dire la verità... Uh... Aspetta... Devo potenziare quale robe... Ehm... Questi devo potenziare... Cazzo costano un botto... Cazzo costano un botto... Cazzo costano un botto... Preso... Ce la faccio per questo? Sì... Ehm... Tacco continuato aggiuntivo... Questa... Tanta roba... Mi dimentico sempre di usarli... Guarda... Sblocca il ringio di Muspelheim... Eh... Ci andrò più avanti... bene entriamolo oh guarda lì allora fermi tutti questo e si può portare di qua qua c'è roba da ruotare sì un altro dai 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 molto bene allora di qua non si passa bene 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 eh aha 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 Figo, sembra di fare... Sembra di fare Indiana Jones. Indie... Solo che noi siamo forniti, cazzuti. Allora, si passa di qua? O si va di qua? Io vado prima di qua. Aha! Guarda un po'. Sono dall'altra parte. Bracciali a scaglia della concentrazione. 3. Difesa e ricarica. Toglio 15 di forza, però. Beh, ricarica, va su. Uno la difesa... Non di poco. Teniamoci così. Ah, aspetta, c'ha... Non ha il castone. Parca puttana. Hmm, I'm ready. I'm ready. E' rimasto qua. Oh, guarda. Non lo rallenta di neanche un po'. Non lo rallenta di neanche un po'. No. No. Ah, 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 ah. E' troppo figo, cazzo. Bastarda. Oh, pure tu. Ah, quindi quelle stragacce lì evocano... Uh, guarda qua. Bravo. No, troppo presto. Uno. Due. Tre. Eh, giochino. Ti ho capito io. Qua c'è da fare molto avanti e indietro. Ah, ah. Acqua bioluminescente. Aspetta. No. Eccolo lì. T'ho sentito. Allora. Uno, due. Ah, ma non è un tesoro. Non ho un codice. Non ho un codice. Sì, sì, sì. Ma sbaglio o mi è diventata più cazzuta l'ascia? Allora, lì si può entrare. Lì c'è un cristallo e lì c'è un'altra risposta. Signori, qua c'è un cristallo. Si vedeva! Dai, Tristano! Ok. Questo qua. Dove mai potrà andare? Ah, ah. Boy, un altro cristallo. Oh! Mi ha detto questo? Ma se si andava di qua? Si! Wow! Numero uno di Sparta. It feels so... Dead. Ma questi... Uno punta di qua e gli altri sono di là. Cosa dovrebbero aprire? Perché uno è lì. E l'altro è... Dove l'ho visto? Prima io! No! No! Dai, dai! Allora, di qua si va avanti. Aspetta un attimo. Da tra loro velocità è difficile colpirli. Ma non mi pare. Se pestano in piedi per terra significa... Si, l'avevo capito. A proposito di bestie. Aspetta un attimo. Veloce. Palle di fuoco. Due armi. Ah, forse erano due armi. Ecco perché. Qua qualcosa mi sfugge. Uno è lì. Uno è lì. E l'altro. Intanto prendo questo. Che sicuramente servirà qua sopra. Esatto. Aspetta, illumina questo. BNR. Aha. Questo sarebbe un gigante? Allora, abbiamo detto BNR. E non sono a tempo. Possibile. Allora, abbiamo detto BNR, ma è che ora. Casuale. Allora, abbiamo detto BNR, ma è che ora. E poi, uno è lì. N. Cosa? BNR. Dov'era l'altro che non mi ricordo? Questo. Non va. Per quale motivo non va? Ah. No, allora per forza sono giusti quelli lì, ma manca qualcosa. Ah no, è aperto infatti. Grazie. Sì. Molto bene. Andiamo avanti. Però quello là si illumina. Quella lì non è illuminata. Vabbè. Non imparerete mai. Eccolo lì. Minchia, tutto questo è solo per una scritta? Vabbè, ci sta però. Speravo meglio. Yeah. Dai, sparamene un'altra. No. Sparamene un'altra. Un'altra. Dai. No, lascialo stare. Perché non la rilancia indietro? Vabbè. Ma scusa, l'ho presa quell'abilità lì almeno. Quella delle... Oh. Che cazzo, non l'ho neanche sbloccata, ma vaffanculo. Vabbè. Allora. Illumina lì. Dai, ho una letta lì. Oh. 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 Ok. L'ho preso nel giornale. Bravo, Figliwolo. Scorciatoie. Yuhuu. Bello. Andiamo avanti. Dovrei aver preso tutto. Un po' di morti? Questo è un po' di morti. Quale bestiaccia si nasconderà? Ah, giusto. I non morti. Ah, abbiamo fatto il giro. La statuta. Abbiamo fatto l'acqua. Posso leggere? Ma no. Ho puntato là. Oh. Questo è Durothron. Uno dei quattro stagni del mondo. Si deve guardare l'entrazione di Yudanam mentre gli gianti dormono. Hai pensato che sei ancora là? Non lo so. Sì. Prima di tutto. Vabbè. Dell'argento non si rifiuta mai. Poi l'argento e non l'oro. Magari pensavano che fosse un po' troppo lame. Allora, si può andare di lì, ma io spacco prima di qua. Hola. Illumina la, please. E io distruggo tutto. Quello lì. Cos'è quella bianca? Vita. La rabbia? Minchia, 27 XP. Mi sa che mi dava di più. Come vita o rabbia, ma sono al massimo. Boh. Allora. Mr. Cornuto. Non c'è altro da fare qui. Questo l'ho preso. Ok. Andiamo avanti. Oh. Ah. Cosa? Cosa? Vi hanno potenziati. Ah. Qua serve un cristallinus. Porta che non si può aprire. Qua c'è un mega buco. Tu volevi imparare me. Per cortesia. Vai su, signori. La pique è ancora il nostro obiettivo. Abbiamo trovato il modo. Ah-ha. Ok. No. Quello lì dove era imboscato. Drogar con lo scudo. Beh, ma li avevamo già trovati, scusa. Cambiare strategia? Non serve cambiare strategia. Con lo scudo ho preso l'abilità che spezza gli scudi. Oppure gli faccio la parata. Ok. Comunque questa filosofia dello spacca sempre tutto che ti rivelerà qualcosa. Mi piace. Allora, lì si scala. E qui si scala? Qua non si scala. Anche se là ci sono le scritte. La c'è una luce un po' strana. Bene. Andiamo di qua. Oh, guarda lì. C'è un nome, penso. Razzler. Significa terrore. Cioè? Che cosa può venire chiamato terrore? Va bene. Oppa. Ecco cos'era. No, non devo andare giù. È una scorciatoia, tipo. Per non scalare di nuovo. Esatto. Quindi anche qua, probabilmente, dovrò tornare. Scusa, io qua ci vado. Giù, figliolo! Niente. Figliolo non viene. Scusa, io qua ci vado solo. No. Ok. Ahà. Un marchigegno. Che cala nel buco. Aspetta un attimo. Ok. Il cuore della montagna. Questa è la montagna. Onde siamo? O mio. E se questa cuglia riuscirà il summit, il nostro obiettivo è vicino. Allora, come usiamo? Un attimo. Posso esplorare, Cristo Santo? Guarda, quello là è vero. Non è vero. Strano, sembra un... Atreus, per me. Sono venuto, sono venuto. Sembra un luogo adatto per... Per un agguato. Però... Bello. I like it. Altre porte che non si possono aprire. Che... Fa... Stidio. E va bene, va bene. Vorrà dire che tornerò. Allora, di là si potrà andare sopra. Di lì pure. Ah, c'è pure... Il coso... Nano smartellano. Allora, questo non è andato a qualsiasi. C'è una macchina con le gare e la ropa con quella torcia. Oh, la porta di Odino qua. Camere nascoste di Odino. La quarta di sette. Sì, allora ok. E qua? Cosa dice? Sir! Cosa dice? Cosa dice? Come così? Un'altra mano ha scritto... Yotnar only. E un'altra ropa... E anche di Dwarves. Sì, dovremmo aggiungerlo? No. Beh, allora non mi sembra di poter fare altra roba extra. Quindi andiamo qua sopra. Yotnar only. C'è mica una luce. C'è mica una luce. Cosa dovrebbe essere sto? Altro potere che dovrò sbloccare le cose. Cosa cavolo? Io sono bloccato. Allora il boccia guarda qua. Ma io qua non posso fare niente. Vero boccia? Infatti mi segna bloccato. Lui ha parlato dei macchinari, ma non si può interagire. Ci sarebbe della roba lì sopra, ma non so come salire. Non si possono spaccare. Lì non si entra ancora. Ma guarda un po'. Ovviamente non è di qua che si va, però... È un extra. Benvenuto. Ops. Boy. Boy. Ah, forse... No, era vita. Sì, ma vabbè, me la sono presa un po' comoda. Allora l'ho guardato. Lì ho fatto tutto il giro ok. Lì ok. Lassopra ok. Boh. Quindi. Be no, sonora... Credo che vedo la quinta. L'icolo è sull'un parte. E se rendere così che stiamo trappose... Che staggiamo fin dalla friera. Oh no! dai mola cos'è sta roba scusa eh ma non vale minchia come faccio io sapere quando esplodo porca putana quindi se sono rossi esplodono ok che cazzo adesso non c'è più vita qua intorno perchè l'ho presa how big is this place è una montagna, grande grazie grazie no, aspetta ok ma sto andando avanti scuso credevo che sia andata avanti solo di là più cappi c'è un tonnello, ma tu non fai prendi ok sei ok? ovviamente ok, vieni ok se può andare ora? vedем Legal Ma sta andando avanti scusa Non andavo avanti Di là Cinchia quanta vita Si va su? No Boh Ma sta andando avanti Sto Non ci sono Sto Ma sta andando Ma sta andando Ma sta andando Si Ma dai! Ma perché non mi attivi il potere? E che cazzo Guarda che non lo attiva sto stronzo E' tipo le cose di Dark Souls Le mini titaniti Non è possibile che sia una camera Beh dai! Questo era troppo nascosto però Porca puttana Non si può neanche vedere Forse si Ah ok Quando andremo sopra Vabbè Allora Il piccoletto Diceva Che dovrò spostare qualcosa Allora di qua indietro non si torna Perché ci sono i trappolozzi I trappolozzi li cosavano solo di là Dai zitto Allora lui dice di spostare questo Ok 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 Ma Ma Per andare sopra Adesso ho visto cos'è Povero Qua non c'è rampica Ok Quella porta li si apre ma non da qua Ma prima ho detto lo puoi spostare Vaffanculo No Da troppo Beh Allora Sì un attimo Nuovo set di artefatti Ok Ma scusa ma sta trappola come si sarebbe attivata Giusto per dire eh Vabbè Allora noi andiamo qui Poi andiamo qui Questa si apre da là Cazzo Questo non gli piace Ciao Ciao Anche il fatto di questi congelati Non l'ho capito Forse sono solo morti Allora qua c'è la porta che si apre Ok E una Ok Poi Poi La missa che c'è roba esatto Extra E non ci si arriva da qua Questi ovviamente sono vere No E non ci si Scorciatoie. Ah ok l'uccellaccio lo vedevo lì. Qua si può... E che cazzo! Non volevo cadere giù. Per fortuna ho aperto la Scorciatoies. Sì comunque sono andato avanti senza volerlo. Vabbè. Poi si passa. C'è un po' inparabile, ok? C'è un po' inparabile, ok? Grazie. Dragor ha due armi. Con due armi possono contattare... Ma va! Allora, qua ci sono dei contrapesi ma non serve a nulla spaccato. Bella un po' del cazzo. Quindi tutto ciò... Era una roba extra per cosa? Oh merda. Difesa e ricarica. Ah no, c'ho quella degli antichi. E adesso sono un po' confuso effettivamente. Ah, di là è vero non sono ancora andato. Allora... Maggiro che torneremo... Indietro. Esatto. Esatto. Allora, ho ben capito dove siamo. No. No. Cosa è che fa questo macello? Ah, è coso qua sotto, ma dai. Apriamo qua, giusto per. Esatto. Scendiamo di qua. Spingiamo fuori. Ah, ho fatto tutto sto giro per liberare questo. Bella lì. C'è un po' di qua. l'importante è spaccare Kratos insegna questo Kratos spacca tanto sono sicuro che in tutta questa semilinearità picchiato aspetta figo però no è più figo il lupo cazzo anche questo dovevo potenziare un lupo aggiuntivo non devo ricordarmi ci mette 102 però a caricare ok appunto mentale ricordarsi del lupastro allora buttiamo giù questa ok no devi solo buttarla giù tutte le volte si deve no vita ne ho cosa è questo? questo sembra pesante non per Kratos ragazzo non hai ancora capito con chi stai parlando bene allora vado a fare due chiacchiere con Ruffoletto d'accordo a fare due chiacchiere Sì, non sono pronti. Sì, non sono pronti. Sì, non sono pronti. Non sono pronti. Stavo evitando Vai correre, porca putana Stavo evitando 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 Sarò Stavo evitando See you Stavo evitando Stavo evitando Stavo evitando Stavo evitando Calmo Stavo evitando Stavo evitando Stavo evitando E' 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 Stavo evitando Stavo evitando E' bello Stavo evitando Stavo evitando Think you think Stavo evitando Stavo evitando Stavo evitando Stavo evitando Stavo evitando Stavo evitando You said E' Stavo evitando Stavo evitando Stavo evitando Stavo evitando E' 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 Per forza Stavo evitando Do you hear What are you E' 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 Non si mangia E' 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 Nooo E' 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 E Ah, ok. Release! Ahia Ahia Ok Ah Non te ne basta più una Eh Cazzo Elettrificati Cioè solo sa elettrificato Va bene Ok Ok Coy, sei ok? Si Ho un plan Be ready to lower the crane on my mark I don't know how this thing works I do not care Be ready Nooo, stavo evitando Ballo Bravo Bravo Nooo Ahia Come on Now Now sempre so SEMPRE IL SOLITO! SEMPRE IL SOLITO! SEMPRE IL SOLITO! El dragón era simplement en el nostre camí, n'hi ha mai. SEMPRE IL SOLITO! Però m'ha salvat, i això valga la compensació. Què són? La miscleta de llum, straighter que Heimdall, i perfectament esperat. Oh... Gràcies? Oh, ok. Hold on. Uh, uuh, no that. Uhm... Yeah, he said you lost your talent. Oh, and that I'm selfish. No. I'm sure that I value a weapon's look. No, over its purpose. That I'm pretentious. No, and I'm tight. Fussy. I know what he thinks, but he can't hurt me any- Ah! Burn that. I do not have time for this. No, 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 wait, 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 wait. I have a better idea. What? I just need a tooth from that dragon. Oh, grazie a Dio, adesso mi sblocca. Finalmente. Mo' vatti a ricordare dove c'erano tutti quei cosi la. Quindi? Quinti? Sì, non mi riempio di toci. Poi, guarda. Ora, portate questo con la corda del suo figlio. Poi, guarda me. Quindi basta luce, adesso ho solo bestie. Frecce shock, cristalli esplosivi. Scoccole verso i cristalli esplosivi. E come faccio a cambiarle con quelle altre? Ah, con su. Ottimo! Si può fare nient'altro con sto bestione qua? No. Minchia, l'ha proprio passato da parte a parte. Allora, buon uomo! Allora... Bene, dopo queste rivelazioni, direi che posso chiudere l'avventura. Allora... 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 Allora...